Due docenti sono risultate positive al coronavirus e i sindaci rispettivamente a Torre del Greco, nel Napoletano e ad Agropoli in provincia di Salerno hanno disposto la chiusura delle scuole e di nuovo a psicosi nella provincia di Salerno sia nell'agro che nel Cilento. Aveva sintomi febbrili ed ha deciso di presentarsi all'ospedale di Villa Malta all'insegnante di 47 anni, residente a Striano che vive a Sarno ma lavoratore del Greco, dove sottoposta al tampone è risultata positiva e così sono stati attivati tutti i dispositivi. Un'ambulanza attrezzata dell'Humanitas ieri sera ha effettuato il trasferimento all'ospedale Cotugno di Napoli. In attesa di ricostruire con chiarezza i movimenti e i contatti della donna a Torre del Greco, le aule stamattina sono rimaste chiuse all'istituto comprensivo Don Bosco d'Assisi, mentre con un'ordinanza il sindaco di Striano, Antonio del Giudice, ha reso noto di aver chiuso le scuole a tempo indeterminato, di aver messo in quarantena tutti gli abitanti della palazzina dove vive la donna e naturalmente i familiari. Si sta ricostruendo anche la catena dei contatti della donna per sottoporli a controlli. Non è escluso che anche i sanitari che hanno assistito la 47enne possano finire in quarantena per ridurre il rischio di propagazione del coronavirus a Sarno. In ogni caso è psicosi in diversi luoghi dell'agro. Seppur vero che la donna risiede a Striano, comune del Napoletano, di fatto vive a pochi chilometri a Sarno, dove risiedono anche altri familiari, come il fratello dipendente comunale dell'ufficio Anagrafe, circostanza che ha spinto stamani a scopo precauzionale a disporre la chiusura dell'ufficio del comune di Sarno. Diversamente le scuole questa mattina sono rimaste regolarmente aperte. Al momento nel comune di Sarno l'ordinanza di quarantena riguarda quattro persone che sono entrate in contatto con la donna, il cui tampone ha dato esito positivo sul contagio da coronavirus.